Forse non tutti sanno che in Piemonte ci sono quattro lingue madri ufficialmente riconosciute, il franco-provenzale, l'occitano, il francese e il valser, parlate in più di un centinaio di comuni dalla provincia di Torino alla provincia di Cuneo, dal vercellese al verbano Cusiossola. Sono portatrici di storie, tradizioni, bellissimi costumi tipici, feste di paese e racconti intorno al fuoco, per comunità unite oggi più che mai. La lingua definisce una cultura, le radici e le tradizioni ed è un grande strumento di unione. Le lingue uniscono le persone, rendono accessibili altri paesi e altre culture. La lingua è il modo principale in cui descriviamo il mondo e il modo in cui lo facciamo può renderlo migliore o peggiore. In Piemonte abbiamo imparato che anche lingue differenti possono essere un'eredità preziosa, uno strumento che anima un territorio e lo rende più forte, così come in Europa, richiamando il motto europeo unita nella diversità. L'Europa è la nostra cultura comune e vogliamo esprimerla dicendo il Piemonte parla europeo. L'Europa è la nostra cultura.